draghi elementari naga pirati verri io andrei con ciccia no che dite ma sì ciccia la ciccia zampalo bella tolsi come va tolsi abbiamo appena startato tenuto anche il pre live un po più del solito oggi e abbiamo fatto appena il po che dopo e questo qua il primo game oggi pushamogli 11k bro 11k we are going to push the 11k il discorso prendo lui per l'hp ora prenderlo per l'hp vuol dire che uso coin sì ci sta secondo me la fai sta play allora oggi abbiamo anche mi sa che facciamo la kaizo v con i drop dopo e poi c'è il thunder gas water 12 30 che l'episodio di oggi è parecchio carino l'ha fatto la mia ragazza e ieri abbiamo fatto il test volevo farti gv ore 12 30 ieri abbiamo fatto il test e così pinne un attimo il messaggio e via è peccato qui amen perdere il fight i min poi giga clean cazzo gasa info infugatissimo era infugatissimo e lo so pure sabato mi alleno vabbè oggi oggi si fa si recupera ragazzi prendete il moltiplicatore tanto magari alcuni che sono in top 10 oggi non ci sono cioè questo è non tutti ci sono tutti i giorni è comunque stupenda sta roba abbiamo preso 8000 danni zio cane potrei prenderlo e giocarlo e vendere per comprare lui e poi faccio capire su questo forse addirittura io comunque questo qua secondo me è da prendere con ciccia è mezzo obbligatorio cosa pigli qua vendimentale o il vero spino secondo me è vero spino secondo me un paio di spell qua vanno giocate anzi vanno giocate tutte su quello tanto lo terrò giù un po' eh almeno non mi perde il fight bro magari cioè già eh no perdo comunque pensa un po' che due palle minchie mazio cane no pareggio buono eh giocavo una gemma in meno per devare un'altra quattro pizze cioè purtroppo non posso pigliare troppe pizze minchia questo è buono la coppia eeeh che fai qua prendi sti due no poi vendi lui e fai capis uno di loro così generi altre gemme no mi sembra la play questo lo vendi giustamente no per prendere sia queste gemme qua che le altre e ha capito ve lo fai su di lui però no secondo me si danno due gemme qua compra pure gold per il turno dopo il discorso è che sono tre pizze il turno dopo altrimenti potrei tirappare e vendo 3-1 però si forse in questo caso il gold lo prendi vediamo cioè tirappare compro vendo 3-1 no I mean seeeh bella fela buondì caro cazzo qua prendo il cazzo comunque minchie assurdo è incredibile comunque che sto perdendo i fight qui eh mamma mia che due palle bro che rischio di perdere incredibile mamma mia cioè ho tirato tipo 6 gemme baffate e rischio di perdere i fight è incredibile sta roba but you must me some kind of eh vedi tolsy l'abbiamo presa in culo cazzo c'è lui vabbè teniamo il coin in mano puttana questo è sgravo cazzo questo è il giga è il gigalone lo chiamava l'avrebbe chiamato lo yongyon ma dove lo faccio a miro power qua però che ho paura di prendere pizza questo ne ha presi 11 perché forse lo dovrei fare sul 3-1 no lo faccio su di lui comunque dopo secondo me lo faccio sul 3-1 però eh il discorso è questa la gioco una la giocherei almeno forse ne giocherei due addirittura secondo me è troppo importante provare a non perdere il fight qui cioè questa volta due triple sto turno con la stazione sim dormivamo tutti uno ancora allora io qua potrei anche tirappare al 4 e dare un paio di ste gemme del cazzo magari dopo triplo e cillo cioè tirappare qua ma non dispiace secondo me è pulito il discorso è HP dove lo fai perché secondo me bisogna cominciare a fare HP qua ora cioè è meglio prendere una gemme in più che dare un in più cioè già dan 6 salute se lo triplo danno 8 secondo me è più che sufficiente devo provare a non prendere infiniti danni ora io secondo me boh forse la holdo lei perché dopo dà un attacco in più tanto 11-38 ora non dovrebbe essere male la holdereste la giochereste capi questa bella Joe buondi caro buondi capi bella Chris buondi 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 a todos buondi a todos holdiamo o giochiamo? that's the real question fra io vorrei pushar gli 11k oggi nel chill proprio quindi nel chill dobbiamo fare dei buoni game io quindi giocherei safe qua metti che Reno non so che cazzo ha magari ha fatto HP su qualcosa altre non lo sai mai Reno bella Robby bella Sax mi chiama Sax wait è un nuovo account c'era un ragazzo che mi seguiva che si chiamava Sax ma back in the days se era un tuo nuovo account o cosa comunque buondi cari oggi abbiamo anche i allora rantoli allora questo è molto buono minchia questo è illegal qui pallachi ho provato a vedere se trovavo il secondo di lui vabbè prenderò questa bro questo lo pigli questo lo pigli e lo giochi sicuro questo lo giochi boh fa tutto un po' merda ragazzi mi sa che vendo lui per comprare questo o questo addirittura ma è meglio questo che ci dà una roba cioè ci dà del gold per fine turno no la domanda è voglio fare HP qua prima ma si ora faccio HP qua prendo lui giusto perché dà del gold in più per dopo e poi questo dove lo giochi lo giochi qua mi sa tanto questo verisimilmente lo tieni giù un po' e stiamo fermi no tanto questo ora genera le spell questo qua dopo scarta una roba per 3 gemme ci servirà per triplare lui in tu charglano i con draccari cosa fa l'altra 3 che hai preso all'inizio del tuo turno scarta una magia per ottenere 3 gemme del sangue quindi scarti una spell per ottenere 3 gemme all'inizio del turno spera che non scarti il gold ma io in realtà spero di scartare il gold no cioè chi se ne frega meglio una gemma di un gold cioè un più 4 più 6 quindi io delle due spero di scartare il gold no qua forse cioè non forse secondo me spero di scartare che palle perdo ragazzi minchia incredibile comunque cioè ma vera no non perdo non perdo ok perché ha più salute io spero di scartare il gold onestamente qui merda se è forte sta roba bro merda aspettate un attimo raga aspettate un attimo holy shit fra questo non lo riesco a pigliare ora ma secondo me è kinda useless non lo riesco a pigliare ora perché dopo lui non genera le gemme da una merda minchia qua sono enorme ragazzi io rollerei vabbè ragazzi insana sta roba cioè sono non ci sono neanche murlock in io non so se qualcuno mi riesce a star dietro sto game cioè secondo me se resisto un paio di turni qua non perdo mai cioè non so come non fa non vinco sta lobby se resisto chiaramente resistere un paio di turni che questo baffa un altro po' in grano meglio e non so come posso perdere sinceramente questo è morto ottimo cioè più 5 più che baffo ragazzi è no sense sta roba se neanche se c'è lo spazio per far tutto dovrei vendere lui ma non ha neanche senso tutto non lo so ragazzi non mi sembra male sta roba bella bella per il dodge sono molto casato per l'episodio odierno del thunder gas swat by the way ho anche la mia copertina qui sontuose sprechi un gold inutilmente inutile 26 64 ore troppi generatori in realtà con lui abbiamo due gem in più di quelle che avremo normalmente no quindi secondo me non è così useless però si può saltare però ora devi saltare lui secondo me questo fa merda perché dopo questi danno due si cioè tecnicamente senza di lui avremo 8 gem mi sa con lui ne abbiamo 10 ogni gem alla fine è tipo un 20-20 di stazza quindi è molto più forte avere i verosfini fa merda dipende hanno la rara lobby in cui sono buoni tipo con ciccia possono essere decenti overall si non sono granché lo so non avrei 10 gem comunque senza di lui ne avrei tipo 3 in meno ogni gem alla fine se ci pensi è un 10-16 quindi cioè in realtà è sempre worth averlo questo è messo bene però sono messo bene anch'io brava potevo prendere il taunt giver infatti sì però non l'ho preso perché ho detto boh potevo prendere il taunt giver però boh cioè sto al 6 voglio cercare Charlie mi servirebbe al 6 posso trovare sia Charlie sia di Divine Shield cioè alla fine questo è quello che mi serve qua eh ho un don sicuramente non sono la tribe più forte al momento però no if you know what I mean boh alla fine c'è il bello di sto meta di Battlegrounds secondo me è il fatto che al 6 c'è il divine shield quindi se troviamo il divine shield al 6 non hai bisogno di pezzi che hanno divine shield di loro per essere buono intendono questo è quasi prendibile ma no non lo prendo c'è però un più 6 più 6 che questo è buono però porco dio sfra questo è sgravo c'è anche lei è prendibile però secondo me dovrei far spazio su board per lei meno che non triplo l'altra anche questo non è male la 33 la potrei anche prendere però non sposto le gemme si lo so che il pirata con la 33 diventa enorme ma non c'è o di realtà ci sta a farlo salta lui però secondo me se no ci sta a farlo poi ora ricomincio a baffarlo ora secondo me lui è prendibile quasi ottimo quello buono cazzo sono andati vari buff qua minchia buona sta roba ottimo direi potevi prima usare le gemme no secondo me no perché questo qua lo voglio che sia un minimo baffato quindi voglio questo grosso ma voglio che anche questo possa tradare un pezzo no secondo me cioè non voglio che questo sia 3 6 perché il cleave se poi viene shottato da qualcosa di strano non mi va di aver solo lui come pezzo grosso su board e ha messi molto bene già sto game io non so Yohan non mi pare male Ti dico Anche lui è grosso Forse l'è ancora meglio di Yohan Alla fine Che palle però Non ho trovato un battle cry umano Magari questo mi dà qualcosa Madonna che sbocco fra Una spell qualcosa minchia Cazzo che sbocco fra No sono un coglione devo dare qua Confusi i pezzi But whatever Ma cerca Matador bro Devo cercare la spell Sai che da Divine Shield secondo me qua Slash Argl Cazzo è più grosso Sei più grosso di me è assurdo Io sono veramente grosso ora No non è più grosso di me Non dovrebbe diventarlo Oltretutto Take the money Watch you burn In chiedervi The last I learned Ok 14 pizze Vai Ha concesso Tanto sa di non potermi battere Beh direi primo game di oggi Primo con vero spini Non è Non è male Bro Primo con vero spini Primo game di oggi Non è male Puoi concedere Tanto si è reso No non con Cioè voglio finire la partita normale Su youtube è più carino Che la giochi Cioè che fai vedere tutto Se la ricarica su youtube Cosa che concedere qua Solo perché lui ha concesso Cioè l'ultimo turno Lo fai vedere Bello per il video Ma Dicono che Mary se ne è andata via Doggiato Oggi sono riuscito Da oggi Oggi o da oggi Si sfera Da oggi Doggiato bro Oltre i muri di questa città Bam Quante teghe gli ho tirato a questo Zio per toncio bro Follina Dicono che Dicono che Dicono che